Nome. Francesco. Vitale. Cognome. Caudullo. Bonino. Nome d'arte. Madame Adasky. Bunna. Professione. Musicista. Produttore. Forico. Musicista. Ispirazione musicale o artista di riferimento? Impossibile da determinare. Troppi. Su due Peter Gabriel e Trent Reznor. Marley che è stata sicuramente la scintilla originaria che ha fatto nascere l'amore per questa musica. Come è nata la band? Per gioco. La band degli Afrika è nata per gioco. Avevamo a quel tempo scoperto Marley da poco. Era una musica, un ritmo che insomma era molto particolare rispetto alle cose che eravamo abituati ad ascoltare fino ad allora. Abbiamo cominciato ascoltando Marley, ascoltando gli Steel Pulse, ascoltando Linton Quasi Johnson. Quanti live avete fatto in 30 anni di carriera? Non ne ho idea. Saranno più di 2000. 2000 erotti. Con Madasky abbiamo pensato più volte di quantificare il numero dei concerti. Ci sono stati degli anni in cui abbiamo fatto anche 100 concerti, anche 150 ai tempi di Babilonia poesia. Una band che in 30 anni ha saputo cambiare pelle diverse volte. La musica non è una materia statica, non è materia innanzitutto. Si evolve in maniera continua perché si evolvono i gusti delle persone. Si evolvono anche dal punto di vista tecnologico la modalità d'utilizzo della musica stessa. Quindi sarebbe anacronistico continuare a pensare di fare i dischi come si facevano 30 anni fa. Andremo a suonare 34 pezzi in scaletta quest'anno contro i 20 soliti. Li condenseremo e nello stesso daremo una varietà così, più web. Con questo disco nuovo che abbiamo fatto, anche se Ruggero comunque è venuto e ha fatto un bel polititare su dei pezzi, abbiamo deciso che ci sarebbe piaciuto avere di nuovo un chitarrista. Abbiamo chiesto a Marco, Benz, abbiamo chiesto a Pacco. Nonostante stesse suonando con i Blue Beaters, ha deciso che è una cosa che gli piace. Il primo album che avete realizzato era in vinile. Il primo album che abbiamo fatto era in vinile e ti dirò di più, ne abbiamo anche incollate personalmente le copertine Yobun a mano con il Vinaville. Perché non ci eravamo fatti stampare, per risparmiare un po', non ci eravamo fatti stampare le copertine già fatte, ma eravamo andati in una stamperia e stampato i dischi in un'altra. Quindi poi avevamo queste copertine da mettere insieme. 10 marzo 2015 nasce Punto di Partenza, ultimo album degli Africa. Nasce anche la Social Revolution. Di cosa si tratta? Semplicemente di un modo di affrontare il web e specialmente i social, in particolare Facebook, con un approccio un po' più corretto. L'esercito con gli occhiali a specchio, che è stato il nostro primo singolo, è un po' quello che sintetizza la cosa. Quindi nasce da un'ispirazione vera e propria, cioè dal libro di Quit Italy, di Quit the Donner, e anche da situazioni che ho dovuto, tra virgolette, subire in prima persona. Questa campagna sui social, utilizzando il social, non è un controsenso, perché il social è importantissimo, sarebbe anacronistico, connegarne la grande importanza, la grande diffusione e la grande forza comunque di unire le persone, però dovrebbe unirle. E come recitiamo noi in uno dei quattro punti, penso che una persona si conosca guardandola negli occhi e non spiandogli il profilo. Fondamentalmente la Social Revolution non è assolutamente una critica ai social network, vuole essere una critica all'utilizzo dei social network. Secondo noi sarebbe importante usarlo per amplificare, per dare voce a delle cose che succedono nelle realtà. L'importante è condividere delle esperienze, delle cose. L'importante è andare a vedere i concerti dal vivo, perché quell'esperienza lì non la puoi rivivere neanche guardando un video su YouTube. La dimensione del live è quella che, uno, c'è sempre più divertito, due, quella in cui ci ritroviamo meglio. Per fortuna il concerto è una cosa che non ti puoi copiare, il concerto è una roba da vivere, in Tiliafrica sono un gruppo live, a cui piace stare sul palco, sudare, vedere la gente sotto che balla, e insomma cercare di fordinare degli spunti di riflessione, ma allo stesso tempo anche far divertire. Come si potrà ascoltare il nuovo album? Il disco sarà in vendita nei negozi specializzati, ma solo in vinile. In vendita per chi vuole l'oggetto fisico, soltanto il nostro merchandise. È molto simile all'autoproduzione che facevamo nel 1986, quando usci i miei crari e poi l'h. Sarà in Freedom Load, e questo è un altro punto di partenza, è un'altra presa di posizione che ci interessa molto. Noi pensiamo che Freedom Load possa potenziare al massimo la nostra attività live. Speriamo che la gente ascolti i nostri pezzi, se li scarichi, se gli piacciono, ma specialmente dopo averli scaricati ed averli ascoltati, venga a sentire la loro proposizione nel vivo, cioè la vera forza degli Africa United. Abbiamo voluto chiamare il punto di partenza perché, insomma, bene o male ci sembra che si sia un po' chiuso un ciclo, anche rispetto a un sacco di cose, anche alla fruizione della musica. Nel senso, una volta eravamo abituati a fare i dischi, a distribuirli, a tutta una serie di dinamiche classiche. Invece forse ora siamo arrivati ad un punto in cui sia la fruizione che la proposizione della musica forse ha senso che venga fatta in modo diverso. Quali saranno le prossime date live? Quante date farete? I primi due eventi di presentazione, che saranno Hiroshima e Mon Amour, il 7 a Torino, per noi significa Hiroshima e Mon Amour, e l'8 a Trezzo D'Adda, che è la casa milanese, diciamo lombarda, negli Africa United. A tutti i partecipanti, cioè a tutti coloro che compreranno il biglietto, avranno gratuitamente una copia del disco, una copia fisica. Tre date, diciamo, nei club, se vuoi, che facciamo il 7 maggio all'Hiroshima, l'8 maggio all'Aiva a Trezzo D'Adda, poi facciamo il 6 giugno un posto a Colle Valdensa, in provincia di Siena, che si chiama Sonar. Ci fai un saluto? In diretta dalla Valle, nel profondo dalla Valle, dal profondo della Valle, a tutti quelli che ascoltano Radio Backfit. Nella Valle, Madaschi vi saluta. Ciao a tutti. Un saluto a tutti voi, fan degli Africa e ascoltatori di Rado Backfit. Continuate a supportare situazioni come questa, ce ne fossero, veramente. Yeah, bless you. Ciao a tutti. 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 Grazie.